Per la seconda volta, Venezia riveste le sue ammirevoli architetture con ripari di sacchi a terra contro le eventuali offese aeree. Tutta la facciata della Basilica di San Marco è già scomparsa dietro l'incastellatura di protezione. Il Duca di Genova e il Ministro Bottai all'inaugurazione del quarto congresso delle arti e delle tradizioni popolari. Parla il Ministro Bottai auspicando che le nostre arti figurative rivivano non nelle ripetizioni delle forme trapassate ma nell'applicazione feconda della nostra sensibilità. Momenti del Palio Remiero L'arrivo del trofeo di questa gara popolaresca disputata tra i sestieri e le isole della Serenissima Il trofeo è custodito dal dopolavoro di Burano, vincitore dello scorso anno Preludio al Palio La gara femminile a Ione per la Coppa del Gazzettino Si corre il Palio Le imbarcazioni in gara sono i cosiddetti Pupparini nati da una fusione di linee fra la gondola e il sandalo alla Puranello I nove Pupparini lottano con tenacia e combattività Il primo premio è guadagnato dalla coppia di rematori del litorale nord Non mancano premi di incoraggiamento in natura